Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo 32esimo episodio di Minecraft, signori io sono Maullo e oggi nuovo episodio Allora signori, prima di partire il video vi ringrazio per i like, per i commenti, per i supporti e vi ricordo sempre di iscrivervi al canale Signori, detto questo partiamo con il video, noi siamo nello stesso punto dove siamo lasciati giovedì, se ne ricordo male E solamente che ho fatto una piccola protezione perché qua davanti mi sono spawnati due Wither Skeletor Diciamo che non sarebbero... ok, che adesso sono magicamente spariti Bene, diciamo che non erano il nostro primo obiettivo i Wither Skeletor Ah no, e sono là, sono là cazzarola di una miseria, io l'ho appena tirato verso di me Secondo voi può entrare lui da qua? No, in teoria non può entrare da qua Ehi Wither, dove cazzarola sei? Wither, ehi! Porca miseria, sono proprio lì davanti, mannaggia Ehi, zio, ce la fai a venire qui? Io sono tutto scemo, signori C'ho la protezione e poi mi vado ad ammazzare da solo praticamente Riesco... oh, ciao bello Ma però se stai là sotto io non ti posso ammazzare Se stai là sotto io non ti posso ammazzare, zio Allora facciamo una bella cosa Intanto a te ti leviamo dalle scatole perché... ok E poi c'era anche tuo fratello da qualche parte, non è vero? C'era anche il tuo bellissimo fratellino Che anche lui è pronto a rompere le scatole E dobbiamo ammazzare perché non, 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 non Non, non, non Sento rumori strani Dei quali farei volentieri a meno Però li sento, però li sento Allora, signori, calma il sangue e il freddo Allora, io direi, per prima cosa Là c'è anche un ghast Bene Per prima cosa potremmo raggiungere quella... Oh, il Wither Skeletor Occhio, occhio, occhio Allora, intanto te devi morire Ok Poi torniamo nella nostra bellissima casetta provvisoria, signori Ok E ci mangiamo un po' di carne Che è sempre ben accetta Allora, là sotto ci sono già i... come si chiamano? I cazzarola di una miseria I... quelli blades Quindi direi Noi, signori, abbiamo un obiettivo fondamentale Che è quello Qua ci posso andare? Sì, perfetto Allora, qui già c'è una scala Là c'è uno scheletro Ok Preferisco, sinceramente, allora quel lato di là, scusatemi Che mi sembra bello tranquillo e sicuro Non è tranquillo e sicuro neanche per il Kaiser Di qua Mamma mia, le ho schivate alla Matrix, signori Mi sono girato e le ho schivate Bene Mettiamo un po' di torcia A me, ora come ora, non me ne frega nulla, signori Di Wither Skeletor Assolutamente di niente, me ne frega Allora Io direi Prima cosa Costituiamo il nostro bellissimo portale Che giustamente verrà un attimino squadrato Ma a noi Fotte sega Allora Dalla questo Perfetto Ok Uno, due Due Tre, quattro, cinque Sei, sette Otto, nove e dieci Perfetto Ora questa me la levi La metti di qua Questa la metti di qua Questo me lo accendi E torniamo nel mondo Un attimo reale, signori Prendiamo le coordinate di tutto Prendiamo Oh, la neve La neve In da cazzo La stiamo Come la neve Ma come la neve Mamma Non me l'aspettavo la neve Porca miseria La neve Non me l'aspettavo Bene Bene La neve, signori La neve E gli otticolli Allora Apri questo E mettiamo Portale Port Neve Così lo capiamo Porte neve Abbiamo 4198 4198 Bene Siamo a 4.000 blocchi da casa Che fortuna Oserei dire Che fortuna Y82 Z Z700 Quanto cazzo Allora è? 701 Ok Z701 Ok Così noi sappiamo benissimo Che il portale Della neve E qui Quindi Ok Ora ritorniamo Da quel lato Aspetta Quello è un villaggio? Quello è un fottuto villaggio Quello è un fottutissimo villaggio Che non possiamo visitare adesso Signori Non possiamo visitare adesso No 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 Rimaniamo concentrati Ci servono le blazerod Ci servono le blazerod Ok A me Mi interessa che non mi rompino Ma all'intanto eliminiamo lo scheletro Mi hanno rotto il portale No Ok Allora tu ora vieni qui E muori malamente Proprio decisamente male Devi morire male Ok 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 Mangia E ci siamo Ok Per caso mi ha dato già una blazerod No Non mi ha dato Un cacca Maledetto Maledetto E un'altra cosa importante Che dobbiamo fare Prima di fare danni Signori E quello di prendere anche le coordinate Portone Portale nether Portale neve Portale Port Fortezza Fortezza Sennò noi signori siamo un attimino nella cacca 523 523 Y67 Z 138 138 Perfetto Aspettate Perfetto lo si Ok Ok A questo punto Ripartiamo per la nostra avventura Signori Allora 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 Di qua Abbiamo messo delle torce Ma mi sembra Di qua da dove veniamo noi Giusto? No Ok Sì Di lì più o meno da dove veniamo noi Solo che Non è proprio da dove veniamo noi Allora Qui c'è della lava Che Arriva da là sopra Riusciamo a chiuderla in qualche maniera In modo che io riesca a conquistare un attimo la zona Ok 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 Come la posso chiudere questa lava Occhio 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 Siamo riusciti a chiudere Siamo riusciti a chiudere tutto il tetto Ce l'abbiamo fatta eliminare sta lava della miseria Sì Ci siamo riusciti Oh Perfetto Per ottenere che cosa? Allora Che di qua non c'è assolutamente nulla Bene In nulla cosmico Ok Di qui Dai è così Questo lo metto di qua Questo lo metto di qua Ok 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 Ricordiamo che noi siamo qui per le blaze road Da dove veniamo noi? Di là Ok Qui c'è strada da questa parte E strada da questa parte Io direi però di fare Una sorta di Cosa del genere Attirare il Wither Skeletor Ehi zio Bravissimo Passare qui in mezzo E chiuderlo Bravo zio Ok Andiamo allo scontro con il Wither Skeletor Me la dai una testa di Wither zio? Testa di Wither Niente da fare Quella è una Spada normale Ok Che a noi ce ne frega poco Dobbiamo aprire questa zona di qua Non si va da nessuna parte Di là Si va da qualche parte Mi sa anche di là Di no Va bene Continuiamo la nostra ricerca Signori Con calma e sangue freddo Con calma e sangue freddo Per ora Stiamo procedendo bene Un giorno dovremo tornare Sicuramente Per un discorso di Mamma mia Corri zio Corri Prima che lui si ricarica Ok La prima Blaze L'abbiamo beccata Signori La prima Blaze L'abbiamo trovata Siamo in un posto Non sbagliato Di più Di più Ok Ok Alla mia sinistra C'è uno spawn Di blaze road E noi li andiamo Proprio a cacciare Signori Li andiamo Ok 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 Calma 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 relax Calma relax Quando ne abbiamo Due La povertà Signori Due sole Dai Fanno spawnare Qualcun'altra Fanno spawnare Qualcun'altra Che ne abbiamo Bisogno Dai dai Zio Falle spawnare Falle spawnare Falle spawnare Non manca riuscire Non manca riuscire a trovare Qualche bella Perché non le fa spawnare Addirittura A due a due Bello così Aia Aia Ok Tu sei morta Ok Tu sei morta pure Ne abbiamo tre Ma fa un bagno Uno rischia la vita Per tre blaze road Ma cosa Cosa è successo Mi si è girata Ho vomitato per un attimo Signori Ho vomitato per un attimo Aspetta Questo fuoco Me lo fai spegnere Che poi rischio di passarci Ok 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 Vieni qua bastarda Me l'ha data Me l'ha data Siamo a quota sei Bello 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 così Bello così Però non ci bastano Signori Non ci bastano Sei ce ne hanno due Sono dodici Dodici sono pochini Là ce n'è una Che mi sta guardando Da lontano Ma per ora La ignoreremo Palesemente Dammelo Ok Tu Dove cazzo Lo lavai E battene però A quel paese Te ne sei andata Troppo lontano Come ti ammazzo io Ma ti ammazzo Io Da bastarda Oh è riuscito a prendermi Ma la tua sorella Dov'è Aia Ah eccola la tua sorella Ok E tu sei morta Bene così Per caso Siamo a undici Undici già sono abbastanza Come blazer Dove signori Undici già Potrebbe essere interessante La cosa Perché sento le alitate Dietro la schiena Perché c'era Una blazer Pronta a ammazzarmi Allora intanto Mangiamo un attimino Mi vieni a trovare tu Che carino Mi hai venuto a trovare Lei brutta Storpia Me l'ha data Forse si Ma mi sa che è finita là sotto Va bene Là c'è un ghast Che Per fortuna Da qua non ci vede Signori Ne ammazziamo qualche altra Ne ammazziamo qualche altra Dai Dai Abbiamo trovato il mood Il mood Ce ne serve qualche altra Signori Dai L'armatura Bello così Doppia combo Signori Diciassette 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 Dite che basta no? Perché ho visto il ghast Sei qua Sei qua Ti ho visto Più che ti ho visto Ti ho sentito Quello ci viene da me Venti Aia Aia Non ci viene da me Ma mi spara Malamente Ok Guardate che sono carini Quei mostriciattoli Da sopra Tu vuoi particolare al video E dai così Dai così Dai così Mannaggia Ti a chi non te lo dice pure Ora state un attimino esagerando Però Ora state decisamente Esagerando Ok Cortesemente Cerchiamo di spegnere Questo Questo di qua Così non mi Fregate più le palle Mangiamo Ok Siamo a un totale Di 23 blazerod Signori Penso che bastino Penso che Decisamente Queste blazerod Bastino Ok Io direi Che per questo video Ci possiamo fermare Qua signori Decisamente 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 Sì Decisamente Sì Le pallezerod Le abbiamo recuperate Dobbiamo semplicemente Andare un altro poco In giro Nel Fortezza Per vedere Di recuperare Qualche altra cassa Anche dovrebbe essere Persa da qualche altra parte Perché ci torniamo Velocemente A casa Signori Zitti Zitti Cacchio Cacchio Detto questo Vi ringrazio Per questo video Vi ringrazio Per i commenti Per i studenti E più supporto Noi ci vediamo Sempre qui sul canale Per un prossimo Appondamento Bella raga Ciao Ciao